Mai vi fu storia più sofferta di questa, di Giulietta e del suo Romeo. Se il tuo cuore è colmo d'amore come il mio, racconta allora la gioia che ci attende. Non posso dire ciò che non ha limiti. Queste violente passioni rischiano una violenta fine. E' Romeo, l'erede dei Montecchi. Nessuno deve nominarlo in questa casa. E' finita, ti ripudio, mi è testimone in Dio! Romeo! Chiudi i conti con me, ti aspetto! Noi lo esiliamo. No! Un potere superiore cui non possiamo opporci ha stravolto i nostri piani. Credi che ci rivedremo? Non ho alcun dubbio. Tu sei destinato a morire! Dammi il mio Romeo e quando morirà taglialo in piccole stelle. Il volto del cielo sarà così bello che il mondo si innamorerà della notte. Si parla di saghe oggi e pare che DJ Caruso dirigerà il terzo episodio della saga di G.I. Joe. Nel prossimo episodio Dwayne Johnson tornerà con un nuovo gruppo di attori. Non si sa se ci sarà ancora Channing Tatum nel cast, né si conoscono dettagli sulla trama. Al momento DJ Caruso, il cui ultimo film sono il numero 4, risale al 2011, è impegnato nelle riprese di The Disappointments Room con Kate Beckinsale, Luca Steele e Gerald McRenney. Grazie per averci seguito, scaricate l'app di Film is Now se vi va e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria!